Non me lo devi togliere, non me lo devi togliere, no, no, non me lo devi togliere. No, io non te lo voglio togliere, ti sto a spiegare che non va bene questa speculazione. Perché? Quale speculazione? Che fai? Io sono qua, come stai a fare? Ah, guardi? E' stato in 40, stai a fare i giorni. E' stato in 40, stai a fare i giorni. Io sono faiuto, io faccio H24 perché c'ho sbagliato tutto il giorno. E poi te voglio vedere se fai H24. E perché c'ho stato tutto il giorno? Ma quando c'è stato? No, quando? E' da ieri? E' da ieri che? E' da ieri che? E allora non si è sveglio. E non si è sveglio. E non si è sveglio. E non si è sveglio. Ma davanti alla porta chi c'era? Ma questa testa qua, come c'è? C'è il diritto te? Come c'è il diritto te? Come c'è il diritto te? C'ho diritto pure io. Te dove stai? Non esiste. Tra noi non dovrebbe accadere così. Siamo tutte e due dalla stessa parte, non dovrebbe accadere. No, no, non siamo dalla stessa parte. Eh sì, penso che sì, stiamo dalla parte di qui. Io so dalla parte d'Europa. Io so dalla parte d'Italianità. Ma sei venuto stamattina? Voi che ti faccio vedere le foto che ho fatto da due giorni fa. Sono anche io da due giorni. Ieri che stavamo noi qua. E ci stavo anche io. Ma te hai preso e hai messo lo striscione e stavo lì e nemmeno l'hai messo qua. E che te devo chiedere il permesso? Certo che mi devi chiedere il permesso. Per rispetto, perché ce sto da 40 ore. E io pure ce sto come te. Ma quando? Ma quando? Ce stai a titolo personale? Quando stavamo lì davanti al Portone? E stavi su Martins? E dove stavi? H24 qua? E' certo. Sono una persona a mano, devo beve, devo andare a bagno. E che faccio? Ce vado? Io ancora ce devo andare. Capito? Tu resisti più di me. Bravo. Che ti capito? Io volevo lo striscione, se incazzasse come mi pare. Io dieci minuti lo volevo. Ecco, dieci minuti e levo lo striscione. Poi mi mettesse le mani addosso. Dieci minuti, guarda. E sette e cinque levo lo striscione. Poi vediamo se mi tocca le mani. Ma... Mauro... Cazziluolo. Perché non hai attento? Eh? Non mettiamo più tutta la banda... Cazziluolo. C'è solo due posti adesso. C'è solo il Comune di Roma e solo parlamentare. Adesso se diventa pure parlamentare europeo ho detto che no. Voleva lui. Vede... Ci serve più come voleva lui. Ma... Grazie. Mettiamo più là, eh? Gli fai... Grazie, Andrea. Grazie. Grazie. Una pausa, non avevo un senso!